Buonasera a tutti, ci ritroviamo ai nostri lunedì con gli appuntamenti di arte e storia e questa sera parliamo di un grande capolavoro e soprattutto di un grandissimo pittore del Cinquecento, Tiziano, che realizza la Danae per la Galleria Farnese di Capodimonte in Napoli realizzando uno dei maggiori capolavori della storia dell'arte del Cinquecento. Innanzitutto Tiziano, la figura di Tiziano, qui parliamo di uno dei più grandi giganti della storia della pittura, basta pensare che la figura di Tiziano noi la colleghiamo anche alle maggiori corti europee e corti italiane e poi ne parleremo. Diciamo che la sua arte nasce dalla scuola del Giambellino, quindi dalla pittura veneta e poi dal Giorgione, la sua stare a bottega, la sua presenza con il Giorgione ha influito moltissimo sulla sua arte, anche su quel particolare colorismo e anche chiaroscuro che lui realizza nei suoi dipinti. L'influenza chiaramente a Venezia anche della presenza di Leonardo da Vinci e anche del Dürer, quindi della pittura fiamminga tedesca, hanno anch'essi influito moltissimo quindi sulla sua arte. Possiamo anche dire tra l'altro che questo personaggio ha avuto una fortissima escalation diventando grande protagonista del Cinquecento, lui nato a fine Quattrocento, poi arriverà a morire nel 1576, quindi copre l'arco quasi di un secolo e riesce quindi a lavorare per le maggiori corti. Addirittura con Carlo V viene anche nominato Conte Palatino, un'onorificenza davvero rara, che gli porterà gloria, denaro e altissima popolarità. Tra l'altro Tiziano diventerà anche pittore di corte della Serenissima, quindi un ruolo assolutamente prestigioso, qui ricordiamo il Doge Venier, appunto grande suo sostenitore. Come grande sostenitore è stato anche quel Francesco Maria della Rovere di Urbino quando gli dà come incarico la realizzazione di quella bellissima Venere di Urbino. La figura quindi di Tiziano lavora anche per i Gonzaga, appunto per Francesco primo d'Austria, è anche soprattutto forse aiutata anche dall'amicizia molto forte con il letterato poeta erudito Aretino. Lo stesso Tiziano realizzerà un famosissimo ritratto dell'Aretino che magari lo aiuterà, visto che l'Aretino aveva contatti e lavorava per le tantissime corti, è stato sicuramente uno dei maggiori promotori quindi del Tiziano davanti ai re imperatori. La Danae viene realizzata nel 1545 ed è un capolavoro sia per la sua leggiadria, per la sua bellezza e soprattutto perché è un dipinto di altissimo riferimento rinascimentale, tra l'altro un tema amatissimo dai grandi pittori del tempo. Gentileschi, Artemisia, Correggio, il Tintoretto utilizzavano questo tema ripreso dalle metamorfosi di Ovidio dove la Danae, questa donna bellissima, questa fanciulla di altissima sensualità, veniva resa feconda dopo un corteggiamento assiduo dal re Giove che sotto forma di monete d'oro la rendeva feconda. Qui vedete infatti la pioggia d'oro che va sul corpo di questa bellissima donna dove si vede quel lenzuolo bianco, vedete la perfezione nei dettagli, vedete il colore, la luce e quel volto rinascimentale che è proprio di Tiziano. E qui un putto che raccoglie le monete d'oro anche se lo stesso Tiziano poi ha realizzato altri Danae nella sua carriera tra cui una a San Pietroburgo dove al posto del putto c'è un'anziana serva che raccoglie appunto le monete d'oro dove appunto le monete d'oro che sono la forma in cui Giove si è presentata nella seduzione della fanciulla. Bene commissionato per il cardinale Farnese, Alessandro Farnese potentissimo prelato che imbaguito della donna Angela probabilmente ecco la Danae stava a raffigurare l'Angela tanto amata dal prelato, venne considerato anche un dipinto scavroso e di forte sensualità tanto da essere nascosto nella galleria del Real Gabinetto quindi a cui si poteva accedere soltanto dietro un permesso speciale ma era sicuramente un quadro molto ammirato. Venne realizzato nel periodo romano dal Tiziano lo stesso Michelangelo che al tempo si trovava nel Vaticano e riuscì quindi a vedere questo dipinto e rimase talmente ammaliato dalla bellezza dicendo che il suo colorismo e la sua luce e il suo chiaroscuro particolare del Tiziano lo rendevano eccezionale notando, dando una stoccatina dicendo però mancava di plasticità e di quella preparazione nel disegno che invece era proprio tipica sua. La grande caratteristica del Tiziano è il grande colorismo, è la luce e questo utilizzo come vi dicevo del chiaroscuro in un modo particolare questo è sicuramente uno dei maggiori dipinti del rinascimento, un capolavoro incredibile. È stato davvero un piacere avervi ancora con me questa sera e leggo sempre con molto piacere i vostri commenti e ci rivediamo il prossimo lunedì facendo un ride estero davvero interessante perché siamo in una grande città europea. Buonasera a tutti.